Brutto come la merda molle Non ha talento Non ha capacità Nonostante abbia avuto il culo Di far parte della squadra del programma più ascoltato in Italia Dopo due anni Non sa ancora Accendere Il computer Ma ragazzi ma voi Ma io dico Ma la mattina quando vi svegliate magari un po' nervosi Perché la vita non vi dona tutto ciò che vorreste Non vi viene subito in mente che sto pezzo di merda viene a far cosa in radio? Cosa viene a fare? Ma perché? Ma scusa Luca prendi le cuffie e vieni qui a difendere No 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 Cosa viene a fare? Cosa viene a fare? Un misto fra Mussolini Enrico Beruschi Ha un passato di cui anche Hitler si vergognerebbe Apriva gli ombrelloni ai mercati E vendeva maglioni di finto cashmere alle povere vecchie milanesi Cioè ti rendi conto che sono due anni che quest'uomo ruba uno stipendio e io devo anche dirgli cosa deve fare Cioè io devo... perché non provi a fare i video? Ah sì ok faccio i video Ne ha fatto uno fine Tra l'altro uno bruttissimo L'altro perché gliel'ha montato Wender era decente Fine! Cioè non sai far niente Ruba uno stipendio da oltre due anni Ma lui no, lui è tutta merda Ho messo quella roba in presigla Ti ha fatto schifo vero? Vuoi dire merda? Fa schifo Ma non è vero Ma non faceva ridere È una roba che fa ridere forse a un bambino di sei mesi Ma non è vero La comicità è cambiata Non è più Ridolini o Totò, capito? Cioè siamo nel 2017 A me lo dici Eh a te lo dico Perché se ti sembrano delle robe che fanno ridere Lui continua a rubare uno stipendio In due anni ancora non hai trovato la tua strada Ma che cazzo di problemi mentali c'hai? Cioè questo Cazzo, grazie al cazzo ti pagano per non fare una sega Cioè, no, no, sui problemi mentali parlavano Ah, è una sega Cioè tu sei pagato, rubi Dei soldi che potremmo dare a un ragazzino Che magari ha delle qualità Scusami un attimo Ma vuoi un ragazzino? Cosa ti devo dire? Eh, cioè, dimmi cosa devo fare Allora, non parliamo di sesso adesso Cioè, cosa vieni a fare? Ti do Io devo imboccarti, no? Oltre al fatto che non sei in grado ancora dopo due anni Di montare una scenetta da solo Vabbè, questa è la tua No, questa è la realtà E lo dicono tutti A parte questo, voglio dire Che ormai è notorio Ma la mia domanda è Dopo che ti ho detto Fai i video Cioè uno Eh, lo sto facendo Tu hai scritto Non mi hai neanche risposto Ma che cazzo ti devo rispondere? Ma io non sono il tuo badante Non sono Non è Ma tu mi L'idea Fai e li metti, punto Io non è che ogni giorno Devo provarti le robe Ma domani ci sono Solo tre video Tre video E tre video E infatti Ogni volta Oh, fa scritto Cinque 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 Mai viste Ho montato 86 Cazzare Avevi il cazzaro Occhio Alba merda Al cinema Sto storpio Agli aziature Eccomi Ciao Luca Buongiorno Ciao Luca Un cazzo Va bene? Ciao Luca Com'è? Scusate ma l'impegno Ma tu dimmi Tu dimmi Tu dimmi se c'è una persona Che mai nella vita Ti ha fatto un trailer così Ma io sono commosso Non sono credo Sai veramente Cioè hai spaccato Tu sei l'Alex Lariete della radio Ma ragazzi Per voi l'ha mai fatto? No ma puoi dire anche on air della radio Perché gli incassi sono simili Allora Io ti posso dire Che tanto sforzo Lo fece solo per me Negli anni d'oro Sì Quindi Ti potrebbe portare fortuna Questo è affetto Grazie Questo amore Questo Questa è la chiara dimostrazione Che io credo in te Luca Perché guarda che Marco Se ti odia è indifferente Non gliene frega un cazzo Se ti uccide Ma ha cagato per sei mesi Se ti caga nella merda Nella testa Vuol dire che ti vuole bene Tu vedi la così Luca Sotto merda Non puoi scendere Quindi il tuo percorso è in crescita Ma quanto suona bene Sì che bello Alba merda Al cinema Sì che bello Che frequenze Madonna È bellissimo Sì che bello Lo faccio in tutte le versioni In Dolby Suran Senti Alba merda Al cinema In inglese In inglese In inglese Alba shit Al cinema Aspetta aspetta In Dolby Tu stai a sinistra Io a destra Vai dillo Marco Alba merda Alba merda Al cinema Al cinema